Sul fronte dell'emergenza Covid la regione Abruzzo rimarrà con il doppio colore. Le province di L'Aquila e Teramo infatti resteranno in zona arancione, mentre l'area Pescara Chieti è provincia in rosso, anche se si va verso la diminuzione dei comuni in zona rossa. Ad annunciarlo il presidente della regione Marco Marsiglio intervenuto a Castelli per l'apertura di un nuovo cantiere Ater. L'Abruzzo resterà in due colori, l'ordinanza la firmerò oggi, ieri ho fatto solo l'ordinanza per quei quattro comuni, tra cinque che erano messi in zona rossa, per i quali il continuo monitoraggio della situazione ha fatto verificare la cessazione delle condizioni di allarme, quindi Ortona dei Marsi, Canzano, Campo di Giove e Rocca Casale tornano nella fascia arancione a cui appartiene il resto dell'Abruzzo. Abbiamo il tema della zona rossa delle province di Chieti e di Pescara, stiamo in queste ore valutando una restrizione del perimetro della zona rossa, facendone fuoriuscire i comuni che hanno mostrato in queste settimane una regressione o comunque una fisiologia del contagio, mentre l'area invece colpita in maniera più patologica, che è quella metropolitana, resterà ancora con una situazione di restrizione. Stiamo ragionando anche sull'estensione in tutto il territorio regionale della chiusura delle scuole, con indicazione ai nostri sanitari di accelerare nella vaccinazione per il personale scolastico, in modo da poter riaprire con maggior sicurezza la stagione scolastica, non dover più vivere questo problema di quarantene, di chiusura, di classi che devono essere, e intanto molti sindaci stanno chiudendo le scuole, indipendentemente dalle nostre ordinanze, quindi ieri c'è stato anche un confronto con sindaci dei capoluoghi, i presidenti di provincia su questo tema. Quindi sul fronte della didattica il presidente Marsilio firmerà, con ogni probabilità in giornata, una nuova ordinanza, volta ad estendere la chiusura in Abruzzo di tutte le scuole, tranne quelle dell'infanzia e in IDI, a partire da lunedì 1 marzo. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute fotografa un quadro delicatissimo. Se l'indice RT scende leggermente, la classificazione complessiva di rischio sale però ad alta. Il problema vero, al di là dei numeretti e degli algoritmi, è sempre quello della capacità degli ospedali di ricoverare le persone, dei pronto soccorso di poterle assistere in tempi umani, fare in modo quindi che le persone dentro gli ospedali possano essere curate. Siccome purtroppo, mentre l'R conti piano piano comincia a scendere, noi continuiamo ad avere invece una crescita nella presenza di terapie intensive e di occupazione di posti anche in area medica. Abbiamo già superato abbondantemente i livelli di guardia delle percentuali di occupazione di posti letto. Abbiamo una difficoltà importante nel contenere un'eventuale ulteriore ondata e questo ci chiama ad essere prudenti, a continuare a tenere duro sulle misure restrittive per evitare la degenerazione della pandemia.